Vi leggo un fumetto! Ciao a tutti dei più grandi e più piccini! Io sono Elisabeth e questo video è un po' diverso dal solito perché vi leggerò un fumetto! Quindi è una cosa nuova nel mio canale! Comunque vi volevo dire che se sono stata assente in tutti questi giorni è perché ho avuto molto da studiare e niente! Il titolo è Equestria Girls Una notte al Castello di Cristallo poco dopo l'incoronazione di Twilight e la vigilia della sua prima riunione con le principesse Non sono ancora abituata a questa corona e queste ali Per me è una novità essere una principessa Spero di essere all'altezza per la riunione di domani Non preoccuparti, non ti manca nulla per diventare una grande principessa Adesso riposati Ma durante la notte un misterioso unicorno si avvicina furtivamente al letto di Twilight e le ruba la corona Twilight si risveglia all'improvviso Ma è la mia corona al ladro! Durante la fuga la ladra perde il mantello e mostra il suo vero viso Ma Twilight non ha alcuna intenzione di lasciarla scappare Ridammi la corona! A causa dell'urto la corona cade dalla sacca e rimbalza Quando è il suo punto di colpire uno specchio lo attraversa come per magia Mi spiace ma devo andare principessa Chi era quella? Non ne ho idea Era Sunset Shimmer Una mia ex studentessa Non ha tenuto i suoi poteri così velocemente come pensava E allora è diventata rancosa e disonesta Ho voluto aiutarla ma ha deciso di lasciare i miei corsi E di seguire la sua via Una via che l'ha portata a rubare la tua corona Questo specchio non è come gli altri È una porta che si apre su un mondo parallelo Una volta ogni 30 lune Twilight Devi assolutamente recuperare la tua corona Perché Sunset Shimmer rischia di farne cattivo uso nell'altro mondo Senza il tuo elemento dell'armonia Gli altri elementi sono inutilizzabili Ed Equestria perderà il suo unico mezzo per difendersi Ahimè devi partire senza le tue amiche Perché ciò rischierebbe di sconvolgere l'equilibrio dell'altro mondo E provocherebbe molti danni Vado Non perdere tempo Hai tre giorni prima che il portale si richiuda È una missione per Princess Twilight Ti aspettiamo qui Buona fortuna Aspetta mi arrivo Spike no Spike si getta nello specchio con tuoi light senza riflettere Spike sei cambiato Sei un cane? Sì mi è andata bene ma Che animale sei tu? Ah Che cosa sono questi aggeggi? Dove sono i miei zoccoli? Dove siamo Spike? Credo che questo sia il loro famoso mondo parallelo Sembra il portale per tornare a Equestria Appena avrò ritrovato la mia corona dovremo tornare qui Iniziamo a cercare in questo castello Twilight ha molte cose da imparare su questo nuovo mondo Credo che qui non si cammini così Per un pony non è facile tenersi in piedi solamente su due gambe Oh Twilight entrando nell'edificio capisce che non si tratta di un castello ma di una scuola Che mondo strano È totalmente diverso In un corridoio assiste a una discussione animata Hai rovinato tutto Questa corona non ti apparteneva Non apparteneva neanche Sei solo un idiota Davanti a tanta cattiveria Twilight non può restare a guardare Come osi parlare così? Devi essere nuova qui Dico quello che voglio a chi voglio Capito? Grazie per il tuo aiuto Di solito nessuno osa porsi a Sunset Shimmer A proposito Io sono Fluttershy Sunset Shimmer? Fluttershy? Vi ho sentito parlare di una corona? Sì, è successa una cosa bizzarra stamattina Ero in cortile a distribuire dei volantini per la difesa degli animali Quando una corona è uscita dalla statua e mi ha colpita in testa Non sapevo che cosa farne Allora l'ho data alla preside celestia Preside celestia? Nell'ufficio della preside celestia Ora la corona è al sicuro Verrà data alla luna eletta dai suoi compagni Per il titolo di principessa del ballo d'autunno Ogni anno vince Sunset Shimmer Per cambiare le cose Devi solamente iscriverti al concorso Twilight si presenta al comitato organizzativo del ballo Per iscriversi al concorso Lì incontra due visi familiari Pinkie Pie e Applejack Osi sfidare Sunset? Che coraggio! Credo che voterò per te Quando Sunset Shimmer viene a sapere di avere una concorrente Fa su tutte le furie Avrei dovuto immaginarlo Celestia ha mandato la sua migliore alunna per togliermi la corona Crede di poter diventare principessa del ballo Ma non sa cosa l'aspetta Snips, Sniles Mi aiuterete a sabotare Twilight al concorso? Mentre Twilight non riesce ad abituarsi a questo mondo Snips e Sniles sono in prima linea Per riprendere scene compromettenti E molto imbarazzanti Ad un certo punto Twilight trova una foto molto interessante Guarda Spike Queste ragazze avevano l'aria di essere amiche all'epoca Ma non più Credo che Sunset Shimmer abbia qualcosa a che fare con questo Se vuole la tua corona Forse sta prendendo qualcosa di molto peggio Per fermarla dovrai farti molti amici Ed essere incoronata principessa del ballo Non hai scelta Il giorno dopo Twilight prova a fare buona impressione ai suoi compagni Ma si rende conto che tutti la prendono in giro Ma perché ridono tutti? La risposta è su internet Oh no Qualcuno ha caricato un video su di me in biblioteca Sono ridicola Se tutta la scuola l'ha visto nessuno mi voterà È sicuro? Io voterò per te Promesso Non ascoltarla Non ci si può filare di lei Taci Rarity Non sei meglio di lei Basta ritigare ragazzi Ricordatevi che una volta eravate amiche È successo qualcosa che ha rotto la vostra amicizia E ho l'impressione che dietro tutto questo ci sia lo zampino di Sunset Shimmer Sunset Shimmer non c'entra È Fluttershy che mi ha mandato un messaggio per dirmi che non voleva più parlarmi Ma io non ti ho mandato nessun messaggio Rainbow Dash mi ha mandato lo stesso messaggio Abbiamo ricevuto tutte lo stesso messaggio È strano Forse hai ragione Twilight Sunset probabilmente ci ha giocato un brutto scherzo Andiamo a cercare Rainbow Dash La convinceremo a far parte di nuovo della banda Accetto di aiutarvi se mi batti a calcio Uno contro uno Twilight che ancora non si sente a suo agio col suo nuovo corpo Perde la partita 5 a 0 Ma è riuscita a impressionare Rainbow Dash Che accetta di rientrare nella banda ora al gran completo Per essere principessa del ballo bisogna dar prova di generosità e di determinazione Hai dimostrato di avere entrambe Vi aiuterò Grazie Le nostre amiche non sanno che Sunset Shimmer, Snips e Sniles Le stanno spiando Ma che cosa combinano? Il giorno dopo Rarity ha un'idea divertente per aiutare Twilight a vincere il concorso E se tutti indossassimo orecchie e code di pony finte Per appoggiare Twilight dimostrerebbe che siamo unite nonostante le nostre differenze Sunset Shimmer ci ha diviso ma Twilight ci ha riunito e lo faremo vedere a tutto il liceo Credete che funzionerà? Durante il pranzo immensa le nostre amiche improvvisano uno spettacolo Dai dai corri, vieni e muoviti Anche tu, se ci aiuti Twilight la corona vincerà Rarity ha avuto proprio una buona idea Perché il pomeriggio stesso la maggior parte degli studenti già indossa il costume da pony È un buon segno per le lezioni di Twilight Ma Sunset Shimmer ne sa uno più del diavolo Guardi Vicepreside Luna La sala delle feste è stata distrutta È stata Twilight, Sparkle o le prove? Più tardi nell'ufficio della Vicepreside la signora Luna Twilight sei proprio tu su queste foto? Perché hai distrutto tutte le decorazioni della festa? Ma signora non capisco Sei esclusa dal concorso della principessa del ballo Non sta rompendo le decorazioni In realtà gioca a calcio Il danno è fatto Purtroppo il ballo è stato rimandato Fortunatamente un bel ragazzo di nome Flash Sentry Arriva a scagionare il Twilight Guardate, ho trovato in un cestino della biblioteca Sembra che qualcuno abbia truccato le foto per far ricadere la colpa su Twilight Che disastro Se non recupero la mia corona entro questa sera non potrò tornare a Equestria Prima di 30 lune Spiega il tuo problema alle ragazze Forse possono aiutarti Ma se scoprono chi sono veramente si rifiuteranno Quelle ragazze ti vogliono bene per il tuo gran cuore Non cambieranno idea scoprendo che sei una principessa Pony Venuta da un altro mondo Infatti Spike aveva ragione Sei una principessa venuta da un mondo parallelo? Ma è fantastico! Fico! Certo che ti aiuteranno a sistemare le decorazioni del ballo Unendo le forze Le sei amiche sono riuscite a sistemare la sala da ballo Il ballo sarà questa sera Non dimenticate di votare per la principessa del ballo che vi rappresenta al meglio La sera stessa la festa è un successo e le ragazze sono bellissime Adoro questo pezzo E' il momento di annunciare la vincitrice del concorso Quest'anno la principessa del ballo di fine anno è Twilight Sparkle! Mentre viene incoronata Twilight sente gridare Spike Twilight aiuto! Sniles e Snips hanno preso Spike Grrrr! Giù le zampe! Twilight e le sue amiche iniziano a rincorrerli Lasciate stare Spike! Era una trappola di Sunset Shimmer Spunta dal nulla e salta addosso a Twilight Dammi la corona! Alla fine mia, grazie ai suoi poteri, regnerò su questo mondo a modo mio E dopo sarà il turno di Equestria Appena posa la corona sulla sua testa Sunset Shimmer viene sollevata in aria da una potente aura blu E si trasforma in una creatura demonica Ah ah ah! Torna i Questia, piccola Pony Non puoi contrastare la mia magia Non abbandonerò mai le mie amiche Come vuoi tu? Sunset non crede ai suoi occhi Una forza magica protegge le ragazze dai suoi attacchi Ma che cosa sta succedendo? La tua corona non serve a niente Abbiamo un potere più forte del tuo E più forte di tutto Quello dell'amicizia Dell'allegria Della gentilezza Dell'onestà Della lealtà Della magia Della generosità Sunset Shimmer viene colpita da un raggio multicolore No! Credo che questa corona ti appartenca, Princess Twilight Il tempo stringe e il portale tra i due mondi non tarderà a rinchiudersi Devo andare Non ci conosciamo da molto, ma è come se ci conoscessimo da sempre Mi mancherete tanto Tornata Equestria Allora, com'era l'altro mondo? Oh no, era così differente dal nostro Vado a riposare, sono esausta Abbiamo ballato molto durante la festa E' ballato la festa? Raccontaci tutto subito Fine Vi è piaciuto il video? Spero di sì Allora, facciamo arrivare questo video a minimo 200 views in 3-4 giorni Se ci arriva, leggerò un altro fumetto Se non niente, è stata soltanto una prova Quindi, spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate tanti pollici in su Iscrivetevi al mio canale se ancora non vi siete iscritti E attivate qui la campanellina per essere sempre aggiornati sui miei video E qual è il vostro personaggio preferito di questa storia? Scrivetemelo nei commenti ma sui miei altri social Ovvero TikTok, Instagram e sulla mia pagina Facebook Troverete tutti i miei nomi qui sotto nel link della descrizione E ciao! Tanti abbracci! Ciao!